E' morto a 55 anni Freddy Rincon.l'ex calciatore. Con un passato anche nel Napoli e nel Real Madrid, era stato coinvolto in un incidente automobilistico lo scorso lunedì, la sua auto è stata violentemente colpita da un autobus a Cali. Oltre al 55enne, sono rimaste ferite le altre quattro persone che era in auto con lui, la notizia del decesso è stata data dal Clinica in Banaco dove il colombiano era ricoverato in seguito alle gravi ferite riportate, Freddy Rincon fa parte della generazione d'oro colombiana che ha preso parte a tre mondiali di fila dal 1990 al 1998. Grazie per la visione! Grazie! Grazie!